A Tokyo, durante un simposio intergalattico, gli scienziati annunciano un'importante scoperta per contrastare il cambiamento climatico. Avevano inventato un robot pulitore di nome Donitron che puliva tutta la Terra. Ma dal pubblico prende la parola un eremita, loro acerrimo nemico. Piccus dell'Ampli. Sostiene che le loro scoperte sono tutte sciocchezze. Poi, minacciando tutti, intima di lasciare il pianeta Terra entro una settimana e di accettare l'invasione aliena dei Kaiju per dimostrare il suo potere e fa eruttare il Monte Fuji, prende in ostaggio agli scienziati e fugge via. Visto che i figli degli scienziati avevano fatto amicizia, cominciarono a prendere informazioni per salvare sia la Terra ma anche i loro genitori. E dove vanno per risolvere il problema? La biblioteca che si chiamava Passato, Presente e Futuro. Inizia così la storia originale Il settimo giorno, inventata da bambini tra i 7 e i 13 anni, che hanno illustrato i libri Leporello autocostruiti. E cioè appartiene al loro mondo, sviluppare le loro abilità. Oggi, nella biblioteca Piero Angela di Spoltore, l'evento conclusivo del progetto Gioca Libro, ideato e condotto da Cam Lecce e Jörg Gruner, del Deposito dei Segni. Gioca Libro è un magnifico progetto contro la povertà educativa, dove per povertà educativa non si intende soltanto la questione di emarginazione o di non possibilità di alfabetizzazione, ma si intende poter dare un senso reale alle parole, perché le parole sono il significato, l'orientamento nella vita. E quale migliore occasione per poter crescere e autoformarsi, scoprendo che le storie sono una possibilità di orientamento rispetto alla propria elaborazione di vita. Gioca Libro è che veramente è il risultato della creatività e del protagonismo vero dei bambini, che hanno inventato questa storia meravigliosa e hanno messo in campo tutta la loro creatività, la loro esperienza proprio artistica, grazie a Cam Lecce e Jörg.